A problemi noti quali l'assenteismo, la bassa motivazione o i rischi di corruzione, le riforme di pubblica amministrazione tendono a riproporre sempre le stesse soluzioni. Più procedure, nuove norme, in ultima analisi più burocrazia oppure logica del bastone della carota con i premi e le punizioni. Queste soluzioni hanno dimostrato di essere inefficaci e anche la ricerca accademica ci dimostra perché. Allora che cos'è che è efficace invece? Questa è la domanda di ricerca che ci siamo fatti e che stiamo portando avanti analizzando i risultati di oltre 40 ricerche empiriche condotte nelle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo che ci dicono che a far la differenza sono i comportamenti dei dirigenti. In ultima analisi lo stile di leadership. Per sintesi quali sono queste tre grosse categorie di comportamenti che fanno la differenza perché migliorano le performance dei collaboratori e la loro motivazione. Il primo, gli inglesi dicono walk the talks, cioè fai quello che dici, comportati in maniera autentica. Dare l'esempio è il primo strumento per esempio per ridurre l'assenteismo. Secondo, meno premi e punizioni e più contatto empatico con l'utenza. Quello che motiva davvero è aiutare i collaboratori a capire qual è l'impatto del loro lavoro sull'esterno, sull'utenza, sulla collettività. Terzo, meno burocrazia, gerarchia e comando e più collaborazione. Quello che serve sono dirigenti capaci di ascoltare pazientemente, testere reti di fiducia, negoziare. Questo è capace di generare risultati di lungo periodo e di motivare le persone e migliorare le performance. Sono competenze che oggi non vengono utilizzate nella gestione dei dirigenti, ma sono competenze cruciali e la buona notizia è che si possono apprendere.